Io ho fatto coming out, questa è la decisione personalissima in un mondo omofobico della Chiesa Cattolica molto difficile e molto dura e chiedo di tenere presente questa realtà che è difficile da comprendere per una persona che non ha vissuto un tale passaggio della propria vita di solito la maggior parte dei gays lo sa da sempre io sono in quella maggioranza ma bisogna assolutamente al più presto aprire gli studi per rispondere alla sua domanda e sarà uno studio molto interessante della realtà dei sacerdoti nella Santa Sede riguardo al proprio orientamento sessuale. L'ora non è pressione alcuna o semmai una buona pressione ovvero una cristiana partecipazione che vuole portare al sinodo le risposte degli omosessuali credenti alle domande del Papa Francesco.